Oggi parliamo della clientela leisure degli hotel. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video dove parleremo della clientela leisure. Come sempre alla fine del video vi aspetto nella sezione commenti per sapere poi il vostro punto di vista, la vostra opinione. Ma vediamo appunto una di queste grandi macro aree del settore turistico, come dicevo abbiamo la clientela leisure, poi c'è quella business e quella leisure, che è una nuova macro area che è nata da poco. Però oggi voglio concentrarmi su quella leisure in quanto c'è già molto da dire. Perché voglio parlare di questo argomento? Perché molte hotel hanno problemi di comunicazione e hanno problemi di comunicazione perché non sanno a chi si rivolgono. Sembra assurdo, ma molti ritengono di poter ignorare questo fatto, questi fattori, queste informazioni e quindi pensano di potersi rivolgere a tutti. Come dico sempre, se parli a tutti non parli a nessuno. Quindi è importante avere in mente qual è il nostro cliente. Quindi prima di creare la buyer persona, ti ricordo che ho già fatto un video in merito, è importante capire qual è la macro area nella quale stiamo lavorando. Il cliente leisure è quel tipo di cliente che viaggia per piacere solitamente in periodi dell'anno dove i prezzi sono più convenienti. Questa è la teoria. Ovviamente poi ognuno di noi deve andarsi a scontrare con le ferie e non tutti le hanno in prezzi convenienti. Molti le hanno solamente ad agosto e si devono anche accontentare di quello che trovano. Del cliente leisure possiamo stare giornate a parlarne perché effettivamente è una macro area gigantesca. Potremmo prendere il cliente straniero, il cliente italiano, il cliente leisure di montagna, di mare e così via. Però voglio parlarti di un aspetto fondamentale. Prima di tutto se tu sei un hotel che fa le cose come faceva 20 anni prima, sappi che sei destinato a fallimento perché il cliente è cambiato e necessariamente devi cambiare anche tu. In descrizione ti riporterò il link di una ricerca effettuata da Booking Suite su il trend del 2019 della clientela leisure. E il trend non è altro che la tecnologia. Quindi il cliente è sempre più connesso, devi esserlo necessariamente pure tu. E ovviamente le OTA hanno questo vantaggio, hanno dei siti performanti e tra l'altro vengono utilizzati oramai come dei motori di ricerca. Quello che tu puoi fare è rendere anche il tuo sito performante che deve essere mobile friendly perché le persone prenotano sempre più da mobile o da iPad. È difficile che venga effettuato da computer oramai. Inoltre quello che i clienti apprezzano sono i sistemi di messaggistica istantanea. Quindi magari potresti utilizzare WhatsApp a tuo vantaggio per poter comunicare ulteriormente col cliente ancora prima del suo arrivo. Poi nel momento in cui puoi creare addirittura un'app del tuo hotel, quindi puoi investire un determinato budget su un'applicazione dedicata, allora lì raggiungerai il top perché in questo modo potrai sfruttare tantissime tecniche di marketing restando sempre in connessione con il tuo cliente. Quindi il sistema di messaggistica istantanea, le app, comunque la tecnologia in generale ti permette di entrare subito in contatto con il cliente, che sia per dargli informazioni o quindi farlo sentire coccolato ancora prima del suo arrivo, oppure di adottare delle tecniche di upsell e crosssell. Se non sai di che cosa sto parlando, ti invito a vedere questo video dove parlo del vocabolario e del marketing. Farò a breve un video sull'upsell e crosssell dedicato agli hotel, però adesso ti do una breve panoramica. Con queste tecniche non solo puoi vendere camere di categoria superiore, quindi vendi anche servizi agentivi che possono essere molteplici, quindi dalla mezza pensione alla bottiglia di vino, spumante, l'aperitivo, biglietti, transfer dall'aeroporto, il punto che devi sapere cosa vuole il tuo cliente e di cosa necessita. Ad esempio, se tu sai che i tuoi clienti arrivano con la propria auto, quello che stanno cercando sicuramente è un parcheggio, se poi tu non ce l'hai, magari puoi offrire un parcheggio a pagamento, che se magari sei in convenzione con qualche garage o altro. Di certo, allora non vai a offrire il transfer dall'aeroporto, magari l'aeroporto più vicino a te è a 600 km. Ora, esagero ovviamente, però ci sono anche casi limite. Quindi, come dicevo, la tecnologia può venirti incontro per massimizzare i ricavi il più possibile. Però, quindi, devi conoscere il tuo cliente, guardati intorno perché il cliente leisure viene nella tua struttura, cosa cerca, intervista i tuoi clienti con una semplice chiacchierata, poi il tuo personale del front office saprà fare questo lavoro sicuramente. Quindi, analizza tutti i dati a tua disposizione, vengono per il mare, per la piscina, per sciare, per i musei, questo lo sai solamente tu, però in base a questo poi tu puoi creare dei pacchetti aggiuntivi o comunque dei pacchetti inclusi che ti permettono di aumentare i ricavi e vendere molto di più. Quindi, il consiglio che ti posso dare è quello di non fossilizzarti nelle tue convinzioni, dedicati al marketing in modo attivo per il tuo hotel, in modo tale da non restare indietro rispetto ai tuoi concorrenti. Come dicevo all'inizio di questo video, ci saranno prossimi video dove parlerò della clientela business e della clientela leisure, in modo tale da avere una panoramica anche su queste macro-area. Spero che questo video ti sia stato utile, ti invito a mettere mi piace e iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Come sempre mi trovi sui social e link sono in descrizione. Besos!